Lo scontro tra la Regione Toscana e l'Agenzia delle Entrate si consuma su 4 milioni di euro che l'amministrazione finanziaria ha chiesto indietro dall'IVA detratta nel 2011 dall'Arzu, l'azienda regionale per il diritto allo studio che fornisce vitto e alloggio agli studenti. La vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, insieme ai rettori degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, si è schierata con l'Arzu e ha detto che la richiesta mette a repentaglio i servizi per il diritto allo studio nei quali le risorse detrate dall'IVA sono reinvestite. L'azienda sostiene che quei servizi siano di tipo commerciale, cioè soggetti a IVA, ma per l'Agenzia delle Entrate, che ha aggiunto anche sanzioni per altri 4 milioni e mezzo, non è così. Quei soldi non potevano essere detratti e ora vanno restituiti. Ci stiamo muovendo a fianco dell'azienda a livello amministrativo, ci stiamo muovendo a livello politico, proprio perché si prenda piena coscienza che una manovra di questo tipo potrebbe distruggere il diritto allo studio in molte regioni italiane. La richiesta dell'Agenzia delle Entrate si basa su una sentenza del 2011 della Corte di Cassazione che ha condannato l'azienda per il diritto allo studio di Pavia, ma in quel caso c'era un legame diretto tra formazione degli studenti e servizi erogati che in Toscana, spiega la regione, invece non esiste. Secondo un'interpretazione della legge noi facciamo un servizio commerciale quando facciamo i servizi di mensa e di alloggio, secondo un'altra interpretazione facciamo un servizio che non è commerciale. Nel caso in cui è commerciale possiamo recuperare dallo Stato una parte dell'IVA che noi paghiamo ai nostri fornitori. Nel caso in cui non fosse commerciale non possiamo recuperare l'IVA e quindi è questo il termine del contendere. La partita è aperta e senza esclusione di colpi perché in ballo, ha ribadito la vicepresidente Barni, c'è il diritto allo studio garantito dalla Costituzione.